Buongiorno a Carlo Tavecchio, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Grazie per aver accettato il nostro invito in un momento in cui il mondo del calcio italiano non passa davvero un bel momento. L'ultimo scandalo in ordine di tempo è quello che sta coinvolgendo il Catania Calcio. Il presidente Pulvirenti avrebbe ammesso di aver comprato 5 partite dell'ultima stagione di Serie B per salvare la sua squadra. Presidente, che sta succedendo? È l'ennesimo scandalo che forse racconta un mondo un po' più complesso. Guardi, in questo momento l'analisi, se fosse rivolta esclusivamente al caso Catania, sarebbe un'analisi molto parziale. Il problema del calcio italiano, anche professionistico, e in alcuni casi soprattutto professionistico, deve essere valutato sotto un quadro generale economico. Le società in questo momento hanno problemi, molte società hanno problemi economici devastanti. per gestioni male fatte o per situazioni di costi esorbitanti. Noi dall'11 di agosto abbiamo messo in atto dei provvedimenti che potrebbero, in teoria, metterli a regime in bilanci seri, riguardanti soprattutto gli investimenti, riguardando i costi gestionali e la patrimonializzazione. Questo deve avvenire per poter mettere in condizioni le società di essere più tranquille nella formazione e nell'organizzazione. Le necessità gravi fanno l'uomo ladro. Queste situazioni dipendono da queste grave situazioni, dove i presidenti si devono, provvedono in maniera anche illecita e disonesta, a raccogliere fondi che non potrebbero essere diversamente utilizzati. Dice è frutto di un sistema in crisi? È frutto di un sistema che va in crisi, che va sistemato. Non si può più pensare che il sistema non abbia delle regole precise di controllo. Io rispondo da quando sono stato eletto. Abbiamo messo delle regole precise e ferre che quest'anno... Dall'agosto dell'anno scorso. Dall'agosto dell'anno scorso. Che quest'anno non possono andare a regime, perché se andassero a regime quest'anno noi avremmo problemi di iscrizione ai campionati, a qualsiasi livello. Anche in serie A? Anche in serie A. E quindi avremmo dei problemi di ordine pubblico. Quindi dice con queste regole che abbiamo deciso noi, se dovessimo andare a regime con queste regole, non potremmo iscrivere alcune società di serie A. Molte criticità. Il problema è che ci vuole un piano. Io ritengo quinquennale, non bastano tre anni, per mettere a regime tutti i processi economici per salvare questo sistema. Soccorre molto in questo momento i diritti soccorrono, i diritti televisivi, che se fossero inquadrati e messi a regime in maniera corretta, dove ci siano le aziende con bilanci, che hanno i canoni della serietà, dove i costi gestionali non devono superare le entrate che hanno le necessità, il Paese sportivo si salverebbe. Però cerchiamo di capire, Presidente. Lei dice che se queste regole fossero rispettate già da ora, ci sono delle società di serie A che non potrebbero iscriversi al campionato. Avrebbero dei problemi alle iscrizioni. Invece per quanto riguarda la serie B, torniamo un attimo al caso Catania. Questa vicenda cosa comporta? È ipotizzabile uno slittamento dell'inizio della serie B? Intanto noi dobbiamo dire una cosa molto chiara. Per l'Europa conta l'inizio dei campionati di serie A. Noi abbiamo obblighi per la Champions e per l'Europa League. La Lega DB e la Lega Pro non ha nessun obbligo il 21 di agosto. E non sta scritto da nessuna parte. Noi dobbiamo partire puliti. Questo è il problema. Non possiamo fare di necessità virtù. Perché se noi partiamo ancora una volta con delle società non censurate o comunque in itinere di censura, faremo un errore. Quindi se partono il 21 di agosto, se non partono il 21 di agosto, ma partono il 28 di agosto, nel panorama federale non cambia niente. Potrebbe slittare quindi, diciamo. Potrebbe slittare in funzione della magistratura. Tenga presente che ieri abbiamo preso un provvedimento d'ufficio del Presidente dove abbiamo ridotto i termini. Questo è il problema che non è mai stato fatto. È stato fatto per la prima volta, proprio per un grave momento di difficoltà. E di difficoltà anche morale. E quindi i nostri processi dovranno avere immediato riscontro durante il mese di agosto. Ascoltiamo una intercettazione proprio sul caso del Catania. Un'intercettazione nella quale i giocatori vengono definiti, vengono chiamati come dei treni. Ascoltiamola. Qualcosa sì, però non posso dir niente adesso. Un treno è alle 15. E l'altro? Ce ne sono altri due di treni però. Ah, siete informati, ciao. Va bene, ciao, ciao. Ecco, i treni in realtà sono le partite truccate, non i giocatori. Che effetto le fa sentire questa intercettazione, Presidente? Io ho un effetto, una cosa incredibile. Dal punto di vista sportivo la lealtà viene calpestata, viene vilipesa. Un uomo di sport non può sentire queste cose. Se noi entrassimo nell'ordine di idee che solo farà ascoltare un giorno questi ragionamenti avremmo fallito ogni nostra presenza. Però, ripeto una cosa, queste situazioni si sono create, adesso c'è un reo confesso. Almeno c'è la chiarezza che chi, la società che ha fatto il danno, ha confessato. Quindi si parte con un punto chiaro, non si deve individuare chi è o chi non è. C'è il Presidente che ha confessato, facendo un atto di assoluto comunicato il reato. E quindi la giustizia parte con un vantaggio, a mio avviso. L'istruttoria credo che sarà molto agevolata. Ecco, lei ha detto cacceremo i mercanti dal tempio. Quindi tolleranza zero quella decisa dalla FIGC. Questa è un mio pallino che ho. Noi, dall'11 stato eletto, ci siamo accorti che il sistema dirigenziale italiano, che partendo dai dilettanti fino alla Serie A, è comportato da 200.000 persone. Ha capito bene la cifra? 200.000 dirigenti che si muovono in una galassia e migrano da società dilettantistiche, società professionistiche, senza avere un controllo per la gestione che hanno fatto in precedenti situazioni. E quindi noi potremmo trovare uno che ha fatto fallire una società di Lega Pro, che diventa direttore generale della Serie B. Uno che ha fatto fallire una società di Serie D, che diventa direttore generale di un'altra società uguale. Quindi noi dobbiamo fare assolutamente un casellario sportivo, dove ci sia il curriculum di tutti quelli che si sono iscritti e sono dichiarati dirigenti, per sapere cosa possono fare e cosa hanno fatto. Questo sarebbe il primo passo per un censimento. Ecco, Presidente, altro caso spinoso è quello che riguarda il commissario tecnico della Nazionale, Antonio Conte, che è stato già squalificato quattro mesi dalla giustizia sportiva e perlomessa denuncia relativa alla partita Albinole F-Siena e potrebbe essere rinviato a giudizio per frode sportiva. Questo cosa comporta anche a livello di immagine, secondo lei, in un momento in cui l'Italia sta lottando per le qualificazioni al prossimo campionato europeo? Intanto, bisogna fare chiarezza, l'11 di agosto, quando io sono stato eletto, tutti sapevano che Conte aveva una posizione di fronte alla giustizia e il problema non è stato mai sollevato, anzi, tutti a furor di popolo avevano Conte. Questo è il problema. Io ho fatto quello che dovevo, abbiamo mantenuto serenità, il contratto gli scade l'anno prossimo. Io credo che nel sistema paese, ancorché uno sia rinviato giudizio, ha la titolarità delle garanzie della legge. E quindi lui non è stato condannato. Quella che riguardava la giustizia sportiva l'ha assolta con quella sanzione. Quindi lui, ho parlato proprio ieri... E cosa l'ha detto il commissario tecnico? È stato molto sereno. Ovviamente se le dicessi che è contento di vedere due pagine con la sua fotografia, con queste cose, direi una bugia. Però noi abbiamo bisogno di una persona, e io l'ho notato che in questo momento ha questa motivazione del sacrificio, dell'ordine, del lavoro e della serietà, sono rimaste intatte. Quindi la federazione lo ritiene un commissario, il commissario tecnico che serve per qualificarci agli europei. E lui è intenzionato a restare fino alla scadenza del contratto. È intenzionato a rispettare il contratto. Grazie. Grazie a Carlo Tavecchio per essere stato con noi. Grazie a tutti.